L'obiettivo che vogliamo ottenere è quello di disciplinare, regolamentare al meglio quello che è l'uso delle macchine da gioco, per cui disciplinarne l'orario e anche dove verranno posizionate, per cui ci sono dei luoghi sensibili come possono essere le scuole, i bar, gli oratori, i luoghi di culto. Ecco, intorno a queste situazioni non devono esserci case locali che danno la possibilità di andare a giocare. Perché? Perché sono i luoghi frequentati maggiormente dai ragazzini, sono i luoghi che in qualche modo aggregano più persone e per cui devono essere tolte tutte quelle possibilità che poi danno luogo a delle criticità, soprattutto là dove ci sono anche fragilità sociali. Non dimentichiamo che c'è anche molta gente che ha, tra virgolette, il vizio del gioco, diventa un vero e proprio vizio quando spendono tutto il loro stipendio, arrivano ad indebitarsi e a creare delle situazioni familiari, di cui poi magari ne abbiamo notizia sui giornali, per cui la finalità è quella di dare, sì, di non essere rigidi, ma di essere rigorosi, che è importante.